Continuano le vostre segnalazioni su quello che non va in città e dintorni. Quella di oggi ci arriva da una telespettatrice che vive vicino alla riviera Berica. La sua è una richiesta fatta direttamente al sindaco Rucco e riguarda la sicurezza stradale, dei piedoni e dei ciclisti in questo caso. Chiedi che venga aggiunto un piccolo pezzo di ciclabile per collegare via dello stadio a quella già esistente in via Martiri delle Foibe. Un piccolo tratto ma molto pericoloso, in una curva poco sicura e molto trafficata e dove non vengono rispettati i limiti di velocità, ci dice lei. La richiesta è fatta da una futura mamma che spera un giorno di poter fare delle passeggiate in tutta sicurezza. Noi come sempre ci prendiamo carico dell'istanza e la porteremo al sindaco Rucco per farci dare una risposta al più presto. Voi continuate a mandarci le vostre segnalazioni all'indirizzo mail vicenzachiocciolareteveneta.it e al nostro numero di cellulare 351 17 51866. Nel frattempo la nostra missione continua. Nel frattempo la nostra missione comunque si dwarfiche a Roma.